Le previsioni per mercoledì 7 agosto 2024 di Globus Television Mercoledì, pressione stabile giornata all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne Temperature massime in aumento fino a 37 gradi, minimi superiori ai 20 gradi Mari, Marioni o poco mosso, Martirreno mare da calmo a quasi calmo, stretto di Sicilia poco mosso Grazie a tutti